cosa stai facendo? niente! dai sali! vai in frisolo! ma no, scivolo un sacco, qualche scarpa di merda che c'è su non si va in montagna con queste ma cosa fai? un uomo che cerca di mettere le ciaspole come procede? io avevo capito che questi erano i ramponi però non le ciaspole perfetto puoi inquadrare un attimo i cadini? cadini di misurina? che beh! cosa stai facendo? sto mettendo i ramponi sto mettendo i ramponi! i rampuan! ma perché questo è girato così di qua e qua? ah, al contrario! anelli delle rampuane metto al contrario così tutti e due hanno la linguetta così Matteo, è quasi mezzogiorno! eh, punto! ecco passiamo dal baio scuro? ci siamo dimenticati di dire dove andiamo oggi! sì! dove andiamo oggi? è vero ci siamo dimenticati a mangiare i canederli! i canederli! i canederli! i canederli! i canederli! i canederli qui! e dove andiamo? Ecco, errore schede SD, perfetto. Che bello. Un'ora e 45. E questo passo quanto ci impiegheremo Matteo? Tre ore. Cosa facciamo adesso? Qua dentro c'è un panino. Vuoi? Quindi? Da quando ci sei tu nella mia vita? La mia vita è cambiata. In? Meglio. Stiamo cercando di capire cosa c'è dentro questo panino, qual è la salsetta. Quindi? Battuta di lardo. No. Battuta di fassona. Verde. Battuta di aglio. Cos'è questa? Battuta di? Cipolla. Mi dai consigli sbagliati. Cosa capisci tu in quadra? Battuta di? Cos'è questo? Scarpone. Ginocchio. Battuta di? Tacco! Battuta di taccole. Non ce la faccio più. Ma secondo me non lo sa neanche lei perché non capisco. In Italia cosa c'è lo? Stivale. Tacco. Cos'è il tacco? In Italia. La punta? La punta? In Italia è la? Il tacco dell'Italia cos'è? Ah madonna quello dovevo capire. Cosa c'è lì? C'è la punta e il tacco. Scusate. Scusatelo. In Italia che forma? Stivale. Andiamo giù? Si. C'è la parte che copre... Si? La parte intermedia dello stivale. Non lo so. Una parte intermedia dello stivale. Poi più giù? C'è la punta e il tacco. Punta Sicilia. Punta? Che regione è? Salerno Reggio Calabria. Si chiama? Regione Salerno Reggio Calabria. Ok. Faccio più schifo in geografia che in ogni altra cosa del mondo. Punta. Piemonte. Non lo so. Cosa c'è? Pordenone. P. Potenza. Banco di potenza. Battuta? Di Fassona. Non lo so dai. Battuta P. Di Puledro. Battuta di Puglia. Quindi? Cosa c'è in Puglia di famoso? Matteo Bresciano. Battuta? Pugliese. Quindi? Nel panino c'era? La battuta pugliese. E il salame. Cosa c'è nella battuta pugliese? Che ingredienti ci sono? Continuiamo. Secondo. Di cosa è fatta la battuta pugliese? C'era la battuta pugliese con dentro il carciofo? Dentro sì. Un salame. Nella Lidl. Buonissimo. Un salame. Sei felice adesso. Fine video. Matteo. Matteo. Scusa. Non smetto. Seguite il suo canale YouTube. Fa schifo. Seguite il suo canale cubansio nuovo vediamo! Non sansà le Sì No, passate le ciglia, questa è bellissima quale ciglia ha Il mascara? Sì Bello Non può? Sì, dai Il cappone di Matteo Forse c'hai un po' tanta neve Ma no Siamo sommersi, dai Ah basta adesso Cosa basta? Pausa un attimo Pausa un attimo No dai riprendiamo Vabbè dai, andiamo avanti Tutti d'accordo sul fatto che bisogna andare a fare una pausetta Andiamo praticamente là Sì Là Ci facciamo molto caldo? Perché qua Perché qua Siamo un po' C'è un po' di neve Sì Un po' tanta Questa è la situazione Questa è la situazione Siamo messi male Ultrasuoni provenienti Vabbè ci vediamo là Non se la fa più La stiamo perdendo Come va Dani? Va bene Questo lo facciamo vedere i tuoi Lì C'è il lago di Garda Eccolo Qua sotto E ci facciamo un tè caldo Tranne Matteo Qui niente Qui niente Che c'è il tutto E' un po' di neve Che c'è il tutto E' un po' di neve non abbiamo l'acqua guarda cosa c'è da fare per te è un rito c'è il crepaccio lì c'è il crepaccio il monte bianco in una pentola perfetto che l'acqua volle vita per terra questo è tuo Matteo? no ok sta freddo ci sono dei colori allucinanti vai 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 scatto scatto vai vai giù 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 secondo me vola te la ferma vai 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 non lo so vai 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 perdiamo gli occhi guardia del corpo di sinistra guardia del corpo di destra guardia del corpo di destra e guardia del porco guardia del porco Cosa fai? Cosa fai? Ok, voglio far venire giù quella cosa Vai, cornice di neve Non morire Dai che c'è quella cornice di neve da far cadere Dai puoi farcela Da qua Eh sì dai, tre punti Nooo Non ho abbastanza energia nelle braccia Non mi ricordo cosa ho detto Energia nel corpo porco E tutto il resto? Nel porco Se ci prestano lo slittino Tidiamo lo slittino Tidiamo Si chiama slittino perché torna giù Si chiamava suino Ma non c'è un sasso scusa Un sasso no che rovini la casa Fila della neve Quella, bravo, vedi che si è capace Su, su, lì Su, su là Su là Su più su Non ho nervo Verso il cielo Non ho nervo Intanto ci sono dei pazzi qua Abbiamo trovato i funghi Dove sono? Poi trovi un piano quello là Siamo là Guarda Ma dove l'ho da se Ci sono i funghi? Ci spintoniamo pur di avere il video più bello 30% di possibilità di morire Se si va giù di qua Confermi? Confermo Mangi i soldi Andiamo a casa? Andiamo a mangiare A mangiare? In una casa Fine video Fine video Ciao Grazie.